Una regola fondamentale, quando voi imparate un trick, chiamiamolo così, un passo, un gioco di abilità con il patto, quasi sempre voi siete portati a farlo subito nei conetti. Allora la regola è imparate prima sempre l'esercizio senza core, cioè senza ostacoli. Qual è il vostro difetto? Il busto, non state dritti con il busto, ma il busto è in avanti piegato e sforzate tanto con le gambe per prendere velocità. Uno, due, tre, e riapro con le braccia. Uno, due, tre, e riapro con le braccia. Uno, due, tre, e riapro. Uno, due, tre, e riapro. Uno, due, tre, e riapro con le braccia. Uno, due, tre, e riapro con le braccia.